Sequestrati beni per oltre 25 milioni di euro, si tratta dell'atto finale dell'operazione Fort Knox, l'indagine delle fiamme gialle e aretine che aveva portato alla luce un traffico illecito di oro e metalli preziosi. L'operazione, che aveva preso avvio nel novembre 2012, aveva infatti consentito di smantellare una complessa organizzazione criminale composta da operatori del settore orafo che reperiva grandi quantità di oro pagato sempre a nero e in contanti destinato al mercato esterno e in particolare alla Svizzera dopo la fusione e il trattamento del metallo. L'indagine aveva visto 168 indagati su tutto il territorio nazionale e all'estero per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di metalli preziosi, reati tributari e riciclaggio poi rubricato in ricettazione, aggravati dalla condotta transnazionale. I vari procedimenti penali rimasti per competenza territoriale al Tribunale e alla Procura di Arezzo sono stati poi definiti con la condanna di 44 persone per patteggiamento, con 16 riti abbreviati ed infine con il rinvio a giudizio di 7 persone che avevano invece optato per il rito ordinario. Adesso i finanziari aretini hanno eseguito quanto disposto dal Tribunale portando al definitivo incameramento nel patrimonio dello Stato dei beni per un valore di oltre 25 milioni di euro già sequestrati e condannati in sede di patteggiamento, diventato poi definitivo lo scorso febbraio in seguito al rigetto del ricorso presentato in Corte di Cassazione. Le operazioni di acquisizione al patrimonio statale hanno così consentito di versare in via definitiva alle casse del Fondo Unico di Giustizia 12 milioni liquidi di vendere tramite l'Istituto Vendite Giudiziare di Arezzo, metallo prezioso per un valore di circa 4 milioni di euro ed infine di consegnare all'Agenzia del Demanio beni immobili per un valore di circa 9 milioni di euro.